buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è lunedì 2 ottobre 2023 ieri cominciato il mese di ottobre era san remigio san remigio un tempo era il patrono dei ragazzini che cominciamolo l'anno scolastico erano i remigini così detti ma ora l'anno scolastico è anticipato e quindi già da tempo i ragazzi vanno a scuola e lo faranno anche oggi animando la città insieme alle persone che vanno al lavoro questo è quando si presenta chi osce chi esce di casa al mattino presto ma noi cominciamo la nostra giornata aprendo come al solito l'almanacco del giorno e vediamo i santi sono i santi angeli custodi i santi angeli custodi cui è stata affidata la difesa da tutti i pericoli dell'anima e del corpo spesso ci dimentichiamo che abbiamo un angelo che si protegge e magari insomma faccio un pensiero non è una cosa vana non è una cosa da scartare e vediamo anche le previsioni del tempo ecco il sole il sole su tutta la regione Marche un tempo ampiamente stabile e solleggiato temperature al di sopra delle medie stagionali la minima è 15 la massima è 25 gradi con punte fino a 29 la ventilazione piuttosto debole sulle coste avremo 20 da ovest nord ovest mentre nell'interno con una sempre tensione debole da est e il sole il sole sorge alle 7 08 è assorto anzi sta sorgendo proprio tra pochi minuti e tramonterà alle 18 e 53 ebbene le giornate cominciano a diventare sempre sempre più corte e allora noi apriamo i giornali cominciando con la sintesi che fa il resto del carlino a livello regionale sulla prima pagina e vediamo la sintesi di pesaro purtroppo vediamo un lutto un lutto che ha una coincidenza particolare una pellegrina parte da pesaro va a visitare padre pio a monte rotondo e purtroppo durante la messa ha un infarto e muore vittima la cuoca di un agriturismo di monte calvo in foglia si è accasciata durante la messa a san giovanni rotondo e poi con una interrogazione di biancani il consigliere regionale del partito democratico si rileva la situazione del pronto soccorso dell'ospedale di pesaro un pronto soccorso in mano ai gettonisti insomma non si trovano persone che vogliono stare in pianta stabile in questo reparto particolarmente difficile del nosocomio pesarese ma anche di tutti gli ospedali del territorio perché la regione paga cifre folli vengono privilegiati i gettonisti insomma avere una professione con molti rischi e pochi risultati insomma non è che attragga molto e poi per quanto riguarda fano si parla della presentazione della nuova associazione alba rosa un nuovo sussidio per cercare di fermare la violenza sulle donne ne parleremo in seguito perché questa è una iniziativa molto importante vediamo le altre province a dancona dancona si sono celebrati i funerali di brunella chiù la vittima nuda le vittime dell'alluvione il cui corpo è stato ritrovato dopo molti molti mesi addirittura in puglia il saluto di barbara e le lacrime del figlio simone il vescovo la sua morte sia monito per azioni concrete sono azioni di prevenzione ovviamente per cercare di contrastare le bombe d'acqua le grandi tempeste che ormai si verificano sempre più spesso nel nostro territorio gli ultras diretti a olbia vediamo un articolo che riguarda lo sport cori al sanzio i tifosi dorici sul primo volo per la capitale e poi per quanto riguarda il porto antico c'è stato un blitz della guardia di finanza e sono stata è stata elevata una raffica di multe e auto rimosse perché in sosta irregolare ad ascoli piceno è stato dato l'addio ad alati guidava il cip da 13 anni ed è stato uno dei protagonisti del territorio a monte granaro caos e coltallate alla festa del patrono un 44enne e nei guai a san benedetto invece si parla di destagionalizzazione la tintarella di ottobre ancora perdura abbiamo visto come il tempo è solleggiato la temperatura è ancora al di sopra della media ma in spiaggia ovviamente scarseggiano i lettini perché le concessioni ormai hanno sbaraccato veramente tutto a macerata a macerata il festival un festival lasciato senza fondi macerata racconta a rischio i contributi della regione e poi a civita nova invece un fatto di cronaca ce ne sono due uno a civita nova e l'altro a recanati scippa un anziano è stato incastrato dalle telecamere mentre nella chiesa di san vito a recanati sporcizia e degrato scatta un esposto questo è un po la somma delle notizie contenute nel carlino nell'inserto del carlino dedicato alla nostra regione apriamo la pagina per vedere qualche notizia che riguarda in particolare la provincia di pesaro urbino e vediamo la notizia della morte di rosina boresta che era la moglie del proprietario dell'agriturismo amato falconi 74 anni faceva la cuoca aveva fatto aveva deciso di fare un pellegrinaggio a san giovanni rotondo per così salutare padre pio la salma di padre pio conservata nella chiesa del monastero in cui egli visse durante la messa ha avuto un malore al petto e poco dopo è morta dolore e sconcerto ovviamente per la fine improvvisa avvenuta di questa persona molto conosciuta per la sua attività nel ristorante la vecchia cantina di monte calvo in foglia scusate la signora era in gita con una cinquantina di compaesani fedeli di padre pio ma durante appunto la messa ha avuto questo dolore lancinante purtroppo è stata ricoverata anche nel vicino ospedale fondato da padre pio ma è sopravvenuta la morte a marotta a marotta un incidente stradale di particolare violenza un furgone impazzito ha centrato dei cartelli stradali e uno spartitraffico la persona che era al volante ha perso il controllo della guida insomma si è schiantata nella notte con questi ostacoli a bordo c'era una coppia di giovani che sono rimasti pressoché inlesi ma sicuramente sotto sciocche per quanto avvenuto ed ora parliamo anche del pronto soccorso abbiamo annunciato la notizia per quanto riguarda l'iniziativa di andrea biancani del partito democratico che ha elevato che ha presentato una interrogazione in regione si tratta di una denuncia per lo stato del pronto soccorso nella nostra provincia sia per quanto riguarda pesaro che fanno ci sono soprattutto medici al gettone per la carenza di personale ha dichiarato adeguato le motivazioni che sono molto semplici carenza generale di medici specializzati in emergenza urgenza impossibilità di svolgere anche la libera professione alti livelli di stress ma anche la bassa retribuzione rispetto ad altre specialità cliniche insomma non è certo un lavoro attraente quello del medico del pronto soccorso anche perché per un sistema che non è all'altezza di dare risposte efficienti ai bisogni dell'utenza qualche volta si arriva anche a confliggere con gli utenti perché non si riesce proprio a dare quelle prestazioni in un tempo accettabile per coloro che in quel momento soffrono anche se hanno un codice che non è una che non rileva che non riveste una grande urgenza e purtroppo è anche un mestiere pericoloso spesso sono stati vittima di aggressioni vediamo ora la notizia che riguarda Fano Alba Rosa volontari in aiuto delle vittime bene l'altro giorno è stata presentata nella chiesa del suffragio una nuova associazione è stata denominata Alba Rosa perché Rosa perché si riferisce soprattutto alle donne alle donne vittime di violenza c'è un momento in cui queste donne sono estremamente in pericolo ovvero sono vittime di violenza da parte del compagno da parte del marito da parte del fidanzato ricevono delle botte ricevono delle aggressioni cosa fanno a un certo punto non ne possono più fanno la denuncia alla magistratura ai carabinieri eccetera ma passa del tempo passano alcuni giorni prima che la magistratura possa prendere dei provvedimenti e sono quei giorni in cui questa donna è ancora in pericolo perché magari il marito fidanzato il compagno è venuta a conoscenza di quello che ha fatto e reagisce in maniera consulta e proprio in questa finestra che avvengono soprattutto i femminicidi ebbene per evitare questo Alba Rosa un'associazione di persone che conoscono bene come funziona l'ordine pubblico perché magari hanno passato una professione all'interno di questo sistema sono ex carabinieri ex poliziotti sono persone che si dedicano nonostante che ormai hanno finito la loro attività lavorativa ad aiutare la società ebbene Alba Rosa assicura una protezione alle donne basta richiederla è tutto gratuito e ovviamente c'è anche la garanzia di chi la presiede che è l'ex comandante della stazione dei carabinieri di Fano Antonino Barrasso poi ci sono anche altre persone la cui fama la cui notorietà è nota e sono persone che si dedicano appunto per spirito di servizio al territorio Alba Rosa volontari in aiuto alle vittime a Urbania oggi si svolgeranno i funerali di Giampaolo Talozzi e il giornale dedica il ricordo di chi gli è stato amico il noto ingegnere Durantino è morto dopo essere stato investito in bicicletta si svolgeranno oggi i funerali nella cattedrale di Urbania e c'è veramente il grande compianto di tutta la comunità la tragica morte di Giampaolo Talozzi che da qualche anno risiedeva a Peglio ha lasciato un profondo dolore tra tutti coloro che l'avevano conosciuto e apprezzato Talozzi lascia la moglie Claudia i figli Livio con Elena Marco e Lia e quindi il il cordoglio appunto non solo dei parenti ma di tutta la comunità questo per quanto riguarda il resto del Carlino ed ora apriamo il Corriere Adriatico vediamo l'apertura sulla pagina di Fano e vediamo la reazione di Stefano Aguzzi attualmente assessore regionale della giunta a Quaroli alla notizia che Ser Filippi non accetta la candidatura al sindaco di Fano Ser Filippi della Lega e siccome Stefano Aguzzi è giunto primo nel sondaggio che è stato fatto per quanto riguarda il gradimento appunto del candidato a questo punto l'aveva già preannunciato io non mi faccio avanti ma se mi vogliono eccetera sarò disponibile ed ora Aguzzi conferma la sua candidatura candidato sindaco Aguzzi in pole position tornare in comune per me un onore lo ha sempre dichiarato l'assessore regionale si mostra disponibile con larga condivisione dopo la rinuncia di Ser Filippi della Lega sono sempre disponibile a candidarmi come sindaco di Fano detto è stata una bella esperienza sindaco per dieci anni Stefano Aguzzi aveva già governato il comune di Fano frenata la ripartenza preelettorale nel centrodestra fanese ora il consigliere regionale della Lega Luga Ser Filippi si è tolto dalla resa dei papabili ebbene esiste però qualche altra candidatura ebbene vediamo un attimo che cosa dice il Corriere Adriatico le candidature di Aguzzi e De Leo sono senz'altro valide ma abbiamo anche altri nomi da valutare vediamo chi lo afferma sono ovviamente voci che vengono tratte dal centrodestra Stefano Pollegioni segretario dell'Udc aggiunge se esiste una terza figura da considerare anche una quarta forse in entrambi i casi non si tratta di un papa straniero chi sono? non sta a me rivelarlo dice Pollegioni la candidatura Ser Filippi abbinata a una bella squadra di possibili assessori sarebbe stata ottima non si è concretizzata nel frattempo si è perso molto tempo ma ciò non significa che il centrodestra fanese si sia smarrito strada facendo la decisione sarà presa presto dice appunto Pollegioni ed ora vediamo la notizia a fondo pagina perché in questi giorni, i giorni di questa settimana entrante verrà dato il via ai lavori dell'ex area Agip quell'area che da tanto tempo è rimasta così degradata diciamo così in balia di se stessa è stata bonificata dopo un lungo lunghissimo processo di scavi di aggiustamenti dopo che se ne era andato il distributore di benzina ora quest'area viene qualificata iniziano i lavori a cominciare dai sottoservizi poi ci sarà una nuova pavimentazione ci sarà del nuovo verde verranno gli arredi, le panchine eccetera insomma verrà completamente trasformata questo fazzoletto di terra nella confluenza tra via Montegrappa e viale Gramsci un incrocio di traffico particolarmente importante e i lavori dovranno essere conclusi entro aprile e maggio del prossimo anno quindi prima dell'inizio della stagione estiva vediamo l'altra notizia è quella che si dà appunto spazio al bilancio partecipato è una nuova forma di amministrazione che è stata adottata dal Consiglio Comunale il regolamento è stato approvato nell'ultima seduta oggi ci dovrebbe essere anche una conferenza stampa che ne illustra tutti i particolari ma in sostanza cos'è il bilancio partecipato? il bilancio partecipato è una nuova forma di gestione delle risorse pubbliche che fa sì che il Comune riservi una data cifra a disposizione dei cittadini saranno i cittadini stessi a scegliere come questa cifra deve essere impiegata per realizzare una pista ciclabile per realizzare una strada insomma una illuminazione pubblica un'opera di comune interesse un centro civico insomma una proposta che verrà fatta all'amministrazione comunale e l'amministrazione comunale poi la accetta insomma c'è una cifra del bilancio pubblico che sarà gestita direttamente dai cittadini aumenta così quella partecipazione diretta popolare che avrebbe dovuto insomma ricalcare un po' quello che era il decentramento decentramento che era uno degli impegni assunti dalla giunta attualmente in carica ma che purtroppo poi è stato disatteso perché non verrà certamente portato a termine non verrà poi adempiuto prima della fine della tornata amministrativa e poi abbiamo un caso particolare che fa riflettere operata al seno vince il premio di poesia si tratta di Nicoletta Gervasi che si afferma con fermati tempo i complimenti di Magalotti il primario appunto del reparto che cura appunto le malattie al seno dell'ospedale Santa Croce e che opera anche a Urbino l'esperienza del dolore la speranza l'impegno e la lotta contro la malattia contro queste parole che sono veramente parole sentite che fanno effetto Andiamo a Pergola A Pergola si espande il profumo del tartufo è la ripartenza anche dell'economia del post alluvione una bellissima giornata di sole tanti visitatori a Pergola per l'avvio della fiera del Bianco Pregiato veramente un prodotto che fa onore al nostro territorio e tra gastronomia nell'ambito della gastronomia non può mancare poi la cultura perché Pergola con il suo museo di bronzi dorati costituisce una fonte di attrazione turistica molto molto importante e sono affluiti a Pergola proprio in questi giorni camperisti da tutta Italia in un raduno che ha sempre successo si mangia e si consuma cultura un binomio veramente eccezionale Amarotta pavimento scivoloso per l'acqua di falda il pavimento che caratterizza il sottopasso della stazione l'assessore a Tiritiello spiega la causa dei disagi nel sottopasso appunto della stazione e verranno presi provvedimenti vediamo la pagina di Senigallia dove si dà l'addio a Brunella Brunella Chiù la donna che è stata una vittima delle recenti alluvioni la chiesa di Barbara gremita per i funerali della donna ritrovata addirittura dopo un anno gremita la chiesa di Santa Maria assunta per l'ultimo saluto dalla 55esne vittima dell'alluvione del settembre del 2022 veramente si sta concludendo speriamo una vicenda drammatica che ha sconvolto il territorio ma ha sconvolto anche l'animo di tutti e vediamo ora qualche notizia che riguarda Pesaro vediamo che l'apertura è dedicata all'episodio di vandalismo che si è verificato sul lungomare danneggiati nella notte tavoli e arredi dei locali il gestore del Maya Bay di Velti Paglioni mi costeranno almeno 1500 euro i paglioni sono quelle strutture che caratterizzano gli ombrelloni sono stati anche spaccati lettini da spiaggia sono stati spezzati pali di legno tavolini insomma c'è stata una notte brava da parte di qualche gruppo di ragazzi che sono sfogati con gli arredi del lungomare e quindi si richiede qui abbiamo anche delle foto che documentano quanto è avvenuto eccole qua si richiede un maggiore controllo ecco qui i paglioni questi ombrelli di paglia che sono stati danneggiati spezzati proprio dalla furia di una notte brava rifiuti agli angoli delle vie il centro storico Patumiera certo che non costituisce una bella immagine della Pesaro capitale nazionale della cultura i residenti del centro storico sollecitano Marche Multiservizi e il Comune a fare maggiori controlli e vediamo qui come i rifiuti vengano abbandonati agli angoli delle vie addirittura sono rifiuti ingombranti che non offrono certo un bello spettacolo a coloro che passeggia nel centro storico ed ora parliamo della festa dei fiori ieri si è conclusa con grande successo quella organizzata a Fano nella zona del Pincio che è stata veramente così trasformata in una sinfonia di colori ed ora comincia la festa dei fiori di Pesaro è invaso il viale della Repubblica la mostra al mercato si inaugurerà mercoledì 4 che è il giorno di San Francesco era il giorno canonico in cui si svolgevano queste iniziative a Fano anche in passato poi ovviamente il dualismo con Pesaro ha fatto sì che a Fano si anticipasse e la festa a Pesaro proseguirà fino a domenica prossima sarà ancora una volta viale della Repubblica ad ospitare la mostra che è giunta alla 69esima pensate edizione dopo lo spostamento forzato lo scorso anno per lavori in Piazza del Popolo la nuova location ha riscontrato il favore degli operatori ma anche dei cittadini a Pecchiese pericolosa più sicurezza oltre 500 motociclisti firmano l'appello pensate sono giunti da città di Castello fino ad Apecchio per organizzare per un gruppo una manifestazione per ottenere una strada più sicura una strada che sia esente da pericoli al momento invece è una strada che desta molte perplessità e molte paure così diciamo vediamo anche qualche notizia di sport per quanto riguarda il torneo il campionato di calcio che è nella fase iniziale del suo svolgimento la Visse vuole fare festa per il ritorno al Benelli la partita è alle 20.45 di questa sera si inizia con un bel derby con la fermana banchieri vincere almeno per dare soddisfazione ai tifosi questa è la parola d'ordine invece Fano è andata bene con la Samb un pareggio soddisfa entrambe le squadre l'assalto dei rosso-blu per tutto il match non basta i Granata dimostrano grinta e resistano sì perché il Fano ha giocato fuori casa al trentatresimo della ripresa Viscovo al debutto para un rigore ad Alessandro pensate la squadra non molla il risultato è 0 a 0 vediamo anche qualche altra squadra il Fossombrone il Fossombrone si spugna il Monte Rotondo che colpo in attesa del risponso sul derby di Fano una partita vinta a tavolino la matricola continua a sorprendere e con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa dandomi come sempre appuntamento a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci 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 Grazie a tutti